Ben ritrovati dalla redazione di news24.city. Taviano, turista di 19 anni, violentata nel villaggio, vacanze e arrestato. Un 27enne, il giovane in carcere, dall'alcol testa, è emerso un tasso alcolemico molto alto. Foggia, operazione Blackfire, arrestato imprenditore per traffico illecito di rifiuti, posti sigile di un'azienda, sequestrati i conti correnti bancari e automezzi. Barletta, auto in fiamme nella notte, paura in via Montegrappa, fiamme nei pressi delle abitazioni, intervento dei vigili del fuoco. Lecce e Fipronil, 4.000 uova, sequestrate in Salento, la decisione dopo campionamento effettuato dai servizi veterinari dell'ASL. Margherita di Savoia, ambiente Moria di Pesci, affoce Carmosina, in passato già verificato episodio simile, cause ignote. Puglia, calciomercato, il Foggia, cede Angelo, Almatera, Bardini, firma con il Monopoli, Monaco passa da Lecce alla Virtus Francavilla.